ragazzi sono un micro di altri commentatori siamo sicuramente un video ci siamo qua ragazzi per un annuncio della live alle due e mezza ragazzi starteremo il live su you know you know come si chiama? come si chiama? non lo so non lo so nessuno lo so allora ragazzi ieri eravamo tantissimi eravamo tipo 900 e passa persone oggi la riferiamo alle due e mezza quindi vi aspetto in live tutti lì ragazzi sarò in compagnia con Alice per voi vedete la mia visuale la mia telecamera e anche quella di Ale quindi saremo anche se siamo a distanza vabbè ci vedremo no? ascolteremo musica mi sono andato un pugno ascolteremo musica faremo cazzate challenge di tutto ragazzi come facciamo al solito qui ragazzi noi ci vediamo oggi in live sarà alle due e mezza starteremo il live e poi vi ricordo ragazzi di andare anche sul nostro canale di Cioship Gamers che facciamo è come se poi vi lascerò un pezzo della live lo metterò sul canale di Cioship Gamers che se la volete vedere e se vi perdete la live vi lascio in descrizione il nome del canale di Cioship Gamers comunque ragazzi sotto ok è passato un vecchio ok sotto in descrizione ragazzi troverete tutti i nomi il mio nome di You know non ricordo comunque ragazzi è un'applicazione oppure sarà anche un sito se andate alla pc mi sono svegliato alle 11 prossime ancora fuori coglioni e vi lascerò in descrizione il nome mio e di Ale poi il il nome dell'apposito e poi vi trovo ancora cosa lascio in descrizione comunque ragazzi vi devo dire una cosa che aspettate mi stavo dimenticando ah stavo dicendo ragazzi che se mi volete seguire anche lì solo che lì siamo più gente io sono già mille e qualcosa di persone che mi guardano quindi siamo già un bel po' se volete seguire anche lì non so farci un po' ridere farci fare challenge o qualcosa scelterà voi o cazzate farci mangiare cazzate scelterà voi dicicelo ragazzi che noi lo faremo in live bella ragazzi ci vediamo oggi in live bella